L'11 dicembre 2006, Marcello Lippi riceve a Coverciano la panchina d'oro speciale. È un riconoscimento per la vittoria della Coppa del Mondo 2006, la splendida cavalcata culminata nella festante notte di Berlino prima e in quella del Circo Massimo poi. Con Lippi vengono premiati i membri del suo staff, Narciso Pezzotti, Ciro Ferrara, Vito Scala, Claudio Gaudino, Ivano Bordona. Per il commissario tecnico campione del mondo è un premio speciale perché attribuito dai suoi colleghi gli allenatori giurati della panchina d'oro. È la seconda volta che viene assegnata una panchina d'oro speciale. Era accaduto soltanto nel 1997, quando furono premiati tra Pattoni, Capello e Bigon per aver vinto tre titoli nazionali in altrettanti campionati esteri. La panchina d'oro è il sigillo finale su un bienio strepitoso per Lippi. 29 partite alla guida degli azzurri e un bilancio di 17 vittorie, 10 parigi e soltanto due sconfitte. La panchina d'oro è la certificazione della grandezza di un tecnico che dopo aver collezionato successi come allenatore di club, si è preso la vetta del mondo, dopo Pozzo e Bearzot il terzo a riuscirci alla guida della nazionale italiana.